Dopo tre anni nel corso Vittorio, meglio in una parte del corso Vittorio, ritorna la linea 1. Ci sono state molte richieste da parte dei commercianti, anche dei residenti che hanno fatto scrivere la loro voce anche a noi di Cagliari Online. Insomma, dopo tre anni quindi il Comune, possiamo dire in qualche modo, ci ripensa e dice che l'1 serve anche nel corso, almeno in una parte. Io non credo che si possa dire che noi ci abbiamo ripensato, noi abbiamo sempre sostenuto questa esigenza, abbiamo però dovuto affrontare un periodo di lavori che hanno portato comunque ad alcune prescrizioni che ci sono state date, a effettuare alcune scelte importanti che appunto sono quelle della pedonalizzazione. Quindi non è tanto un ripensamento, quanto che il fatto che alla fine di questa attività importante di riqualificazione noi siamo riusciti a condividere con il CTM alcuni sistemi, alcune scelte, una delle quali è quella di poter far ripassare l'1. Il sindaco aveva già molto modo di dire in occasione di un'altra conferenza stampa, la decisione c'era già, noi sapevamo che l'avremmo dovuto fare, è stato però necessario che si chiassero le condizioni, cioè la chiusura dei lavori per esempio e quindi la condivisione con il CTM di tutti quelli che sono gli interventi e le attività, per esempio tutte le modifiche al traffico, le pressioni dei sensi di marcia e quindi questo ci ha consentito di fare quello che in realtà già sapevamo che avremmo dovuto fare. Nei fatti adesso la linea 1 per entrare nell'ultima parte del Corso Vittorio passerà da Via Caprera, lì su Via Caprera quali sono le novità? Su Via Caprera importante è stato, e credo che sia importante anche questo solo come elemento, a prescindere dal percorso della 1, l'inversione del senso di marcia, anche lì noi avevamo un numero di richieste da parte dei cittadini, quindi abbiamo fatto l'inversione del senso di marcia e questo ci ha consentito appunto di far risalire, lo vedremo adesso facendo il percorso nuovamente, l'1 sulla Via Caprera svoltando a sinistra, consentendo all'1 di riprendere il suo percorso storico. Il suo percorso storico appunto per un tratto dove c'è la linea 1, c'è anche il resto del corso, il futuro è comunque assolutamente pedonale, per esempio ipotesi bus elettrico, no? No, sui bus elettrici lo dicevo, stiamo ragionando, cercando di ragionare con CTM, abbiamo qualche difficoltà legata a norme un pochino contorte, o ancora senza decreti attuativi, però CTM si sta spendendo molto insieme a noi per poter ragionare, perché poi si serve davvero quello delle navette, dei piccoli bus elettrici, che possono servire lungo tutto questo tratto di strade pedonalizzate, la sorte è quella, certamente. Grazie.